Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un gustoso antipasto prima della settimana conclusiva. Ad Offida il Piceno Cinema Festival, manifestazione cinematografica itinerante organizzata dall'Accademia IFAS, ha regalato una a due giorni di grandi appuntamenti capace di incantare il pubblico del Serpente Aureo. Si è iniziato venerdì con una serata all'insegna di cinema, musica e teatro, a spiccare lo spazio ciacchi in scena con la compagnia di Icra Project, che ha proposto una serie di elaborati scenici tratte dalle tragedie greche e da canovacce, commedie distese delle maschere italiane, un lavoro condotto dal docente Michele Monetta e Lina Salvatore. La serata di sabato poi ha avuto due grandi mattatori, Stefano Reali e Maurizio Mattioli. Il regista, tornato a Offida sei anni dopo aver diretto la fiction mediaset Rimbocchiamoci le Maniche, che vedeva nel cast lo stesso Mattioli e il celebre attore romano, hanno incantato la platea con aneddoti, monologhi e interpretazioni piano e voce. Particolarmente toccante il ricordo di Mattioli per il suo grande amico Franco Califano, del quale ha interpretato canzoni e letto poesie. Offida conosco, devo dire, molto bene perché ci ho lavorato almeno tre mesi, sette anni fa sono stato qui, ho soggiornato qui, ho mangiato qui, ho conosciuto persone, ho conosciuto tante situazioni belle e soprattutto abbiamo fatto una bella serie con Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli, Andrea Giordana, Ugo Pagliai, Alberto Molinari e tanta gente, Sergio Assisi, perché? Perché Offida è una città magica, ha un calore, ha una capacità di... a parte che poi ha una sua bellezza, bellezza architettonica, bellezza della gente, io sono veramente rimasto colpito, guardate, io ho fatto film in tutta Italia, però un clima come ho trovato qui non l'ho mai trovato, mai, mai, mai. Eravamo stati con Stefano qui a fare una aficion con la Ferilli, si chiamava Rimbocchiamoci le Mani che conoscevo molto bene il posto, il teatro, ci abbiamo anche girato dentro qui, è felice, contento, un'organizzazione ben fatta, persone molto affabili, molto competenti, questo fa piacere, insomma, capito, ricevere riconoscimenti o complimenti da persone che magari di cinema e di spettacolo ne sanno, ne capiscono. Il festival si sposta ora ad Ascoli per la settimana conclusiva, da martedì, serata dedicata al cinema di impegno civile, ospite la sceneggiatrice Monica Zapelli, fino a venerdì prossimi all'Auditorium Neroni. Sabato il gran finale al teatro dei Filarmonici, con Enrico Tognazzi, Enrico Vanzina, Massimo Cappelli e Fabio Troiano. Avverrà anche la proclamazione del film, che si aggiudicherà il premio Piceno Cinema Festival 2022.